Perché siamo qui oggi? Perché partecipare è importante, sempre e con entusiasmo. Perché anche noi rotariani testimoniamo l'impegno sulla prevenzione dell'amore al seno. Sono venuto perché è un appuntamento ormai tradizionale del Rotary per aiutare le donne che hanno avuto il timore al seno. Ciao a tutti, sono qui insieme al Rotary Club, ovviamente costretto dal mio padre, però sosteniamo la causa per l'Aresport Club. Volevi prendere? Beh, sono qua perché, anche se non ce la faccio sicuramente da sola, fa 5 km e devo venire con un mezzo meccanico, lo faccio perché devo stare agli amici e perché per me è un piacere enorme stare qui.